Dietro l'operazione del fare pulizia si nasconde in realtà un'operazione di spionaggio di cui vedremo verso quali tipo di poteri si orienta. Questa operazione serve per indebolire la Chiesa, per intimidirla, per pressarla probabilmente in prospettiva del conclave e forse per tentare di introdurre quelli criteri ideologici democratici che puntano da sempre a una sola cosa, far fuori il primato del Papa, perché l'obiettivo rimane sempre quello, l'obiettivo è far fuori il Papa, ridurre la Chiesa come una delle tante sette protestanti, a quel punto la Chiesa sarà al servizio di qualsiasi potere.